Ti faccio vedere la differenza tra argento e oro. Ti faccio rispondere a te e vederti come si vede. Visto con il interdoppio argento. Perfetto, bravissima. Quindi appartieni alla stagione fredda. Vedi questo qua come in realtà ti va a svilieziare anche le occhiaie, mentre questo qua ti dati luce. Sì, 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 ti soffro tantissimo. Allora, ti faccio vedere anche la controprova con il sottotono. Guarda l'arancio e guarda il rosa. Beh, meglio il rosa. Assolutamente. Ma questo è il colore che infatti indosso tantissimo. Quindi questo ti dà la conferma che appartieni a una stagione fredda. Adesso vediamo anche il contrasto. Allora, guardati con questo. Penso basso. E guardati con questo. Penso questo ma non ne sono scusa. Perfetto, sei stata bravissima. Vedi questo qua come prevale il drappo rispetto al tuo viso. Cioè, guardi, vedi solo questo. Invece questo qui è armonico per il tuo viso. Abbiamo l'estate e inverno. Ok. Ok, ovviamente sono già qui, perché sei. Però te le faccio vedere tutte e due. Allora, guarda questo. Penso più a te, forse. Brava. E questa è l'estate. Sì, decisamente. Vedi che differenza. Guarda che torniamo un ciuffo. Questo qua dà risalto a tutti i tuoi colori. Guarda gli occhi. Connesso, il colore della pelle, l'incarnato. Invece guarda questo come predomina. Vedi subito il bianco e il nero. Sì, esatto. Perché è un contrasto troppo alto. Che l'estate non regge. Poi ti posso già dire anche il sottogruppo. Se è una summer soft. Ok.